E poi c'era Andrea, ma era tanto, sì, se avevi fatto altri lavori, se mi eri preso Sì, ecco, ma è capitato di fare la promover, i videogiochi, oppure anche la segretaria Ma in più, c'è stato un po' disordinato per fare la segretaria, per devastare il filo E X Factor ci si è arrivata perché mi sono fatta l'idea e quindi confermo a mio ordine La tua, perché comunque dopo una gavetta così di musica tutto era l'unico modo, in questo momento musicale E' stato un po' di modo per comunque farci vedere la professione E credo che l'importante non sia arrivare per forza, ma se si può fare arrivare dopo si viene A più conversione possibile, è una cosa incredibile, bella, e il motivo forse il fatto di comunicare con gli altri Sì, si chiama, si chiama, si chiama Beh, Sanremo ti guarderanno in canne, eh? Sì, Sanremo arrivi a continuare tu No, però, sì, questa era finalmente un'alegrina attivare questa E' un'arena anche, un po' con gli amici Io poi non sono da che amo la competizione Non, però, sì, dei buoni è nel campo con gli altri brutali Spesso è molto pragato Grazie a tutti Vedem Grazie a tutti Grazie 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 Grazie